Inserita nel cratere sismico 2009 e in quello 2016, Civitella Casanova nel 2015 è stata colpita da una frana in località Valle del Giardino, che ha danneggiato irreparabilmente 34 abitazioni. Nel gennaio 2017 ha vissuto poi l'eccezionale ondata di maltempo, con tutte le conseguenze della tragedia dell'hotel Rigopiano nella vicina Farindola. Ma nel piccolo comune dell'area Vestina, guidato dal sindaco Marco D'Andrea, si sono rimboccati le maniche e adesso, dopo dieci anni, tutta la comunità sta raccogliendo i frutti di tanti sacrifici. Infatti, attualmente sono cinque i cantieri di consolidamento aperti nelle zone soggette a Frane, oltre a numerosi cantieri avviati per la ricostruzione post-sisma. La ricostruzione è un ottimo punto e siamo soddisfatti del lavoro fatto finora, anche se si può fare sempre di meglio. Stiamo andando anche oltre la ricostruzione, abbiamo diversi cantieri anche per il dissesto idrogeologico, quindi una messa in sicurezza sia del comune di Civitella, ma anche della frazione Vestea, che procede a buon ritmo. Diversi cantieri privati, tanti aggregati, scuola ormai è un buon punto, partita, quindi avremo una scuola che soddisferà tutte le più moderne norme sismiche. La chiesa ci stiamo lavorando con un accordo di programma tra Curia, beni ambientali e comune di Civitella-Casanova, che si è accollato l'onere di eseguire un progetto gratuitamente. Come potete vedere, qui siamo proprio nel cuore del paese, la piazza, la chiesa, quindi sono zone che sono state fino a poco tempo fa interdette, oggi piano piano cominciano a riprendere vita.